Saperi che c'è un film sui cannibali che ha letteralmente disgustato la maggior parte delle persone che l'hanno visto? Si intitola Bones and All ed è del 2022, diretto da Luca Guadagnino con protagonista Timothee Chalamet. Oggi vi vorrei parlare di questo film perché la maggior parte delle persone che lo hanno guardato sono uscite dalla sala, dal cinema, disgustate ed è un film che è molto forte in alcune scene però che esplora significati molto profondi, di cui cercherò di approfondirvi oggi. Io sono Valerio Novara, bentornati su Ciacchiazione e oggi parliamo di un film che è uscito a fine 2022 ne parlo adesso forse un po' in ritardo, però l'ho recuperato di recente e volevo un attimo soffermarmi sia sul significato del film sia sulla spiegazione della scena finale che in molti insomma forse non hanno capito e tanti sono usciti dalla sala, dal cinema con molte domande e soprattutto con un bel disgusto. Perché Bones and All ci ha disgustato? Perché ti ha disgustato se lo hai visto o se lo guarderai? Partiamo dal presupposto che parla di cannibali, il cannibalismo esplorato attraverso la storia di una ragazza che negli Stati Uniti, una ragazzina, il film inizia con questa ragazzina di colore negli Stati Uniti che insieme al papà insomma si sposta e va a scuola, degli amici, torna a casa c'è il padre che prepara da mangiare, il letto, le cose e fin qui sembra un teen drama di quelli normalissimi finché lei va a casa di un'amica e mentre stanno chiacchierando sotto insomma sedute sdraiate sotto questo tavolo di vetro come fanno tutte le adolescenti a un certo punto lei prende la mano dell'amica e mangia letteralmente un dito della mano le mozza un dito e qui è la prima scena che insomma ci fa sussultare dalla poltrona e ci fa dire oddio ma che me sto a guardare? è molto particolare perché la scena che ci proietta lei torna a casa, che ci proietta nel senso di tutto quello di cui parlerà il film e che ci disgusterà non poco durante tutta la proiezione del film lei torna a casa dal padre, torna a casa dal padre col sangue insomma che ancora le cola dalla bocca dice al padre, il padre no, immagina quello che ha fatto e le dice subito andiamo andiamo, dobbiamo andarcene un'altra volta dobbiamo spostarci un'altra volta in un altro stato, in un'altra città finché il padre decide di insomma lasciarle una lettera e di abbandonarla perché è evidente che non fosse la prima volta che questa ragazzina si cibasse di carne umana questa ragazza si ritrova sola per le strade dell'America e inizialmente pensa di avere solo lei questa caratteristica insomma che si cibba di carne umana incontra un uomo, Sally, una persona che invece la riconosce ed è come lei, un altro cannibale e che le mostra un cannibalismo senza farsi troppi problemi lui è uno che le sue pulsioni le vive senza farsi troppi problemi la porta in una casa dove c'è una donna morta c'è una persona che sta per morire e le dice se vuoi cibarti so che non ti cibi da tanto tempo e lui senza troppi problemi poi la mattina dopo lei lo trova a mangiare quel corpo inerme e si mette insomma insieme a lui a mangiarla e comincia a scoprire di non essere l'unica con queste caratteristiche finché conosce il personaggio di Lee interpretato da Timothee Chalamet e insieme vivranno una storia d'amore e storia molto drammatica anche perché verranno fuori dettagli del passato di entrambi che li porterà a trovarsi insieme fino alla fine del film e entrambi proveranno a vivere addirittura una vita normale una vita come tutti gli altri tranne che per il fatto che a un certo punto torna questo personaggio di Sally e insomma metterà a dura prova questa coppia e saranno costretti a ucciderlo e lì rimarrà ucciso ma ci arriverò tra un momento perché ci ha disgustato? perché come la maggior parte dei film parla di spiritualità questo film parla dell'esatto opposto parla delle pulsioni umane senza vergogna e Guadagnino le mette in mostra senza preoccuparsi di quello che può pensare lo spettatore e di chi guarda questi cannibali dare sfogo al proprio istinto e quindi mangiare i loro simili la maggior parte delle pulsioni umane che siano sessuali che siano fisiologiche che siano di altro tipo tendiamo l'essere umano tende a farle di nascosto a non farle vedere a tutti proprio perché è una cosa di cui ci si vergogna mentre in questo film vengono spiattellate davanti allo spettatore che rimane anche un po' così perché sono anche scene un po' forti alcune scene sono un po' forti ma che ci fanno capire quanto le pulsioni umane qui sotto la chiave del cannibalismo invece possano rappresentare il sesso possano rappresentare la diversità istinti che tante persone hanno ma che si vergognano a far vedere invece questo film le mostra nel modo più plateale e pubblico possibile che è un po' insomma la forza di questo film la forza e il difetto di questo film perché poi è un film che pretende di essere molto bello visivamente ma che comunque tratta di un argomento molto forte che è il cannibalismo metafora di queste pulsioni umane in questo film il cannibalismo è anche visto come una metafora degli esclusi degli esclusi della società nel film sono i cannibali ma nella nostra società nella realtà nella quotidianità che viviamo sono tantissime le persone escluse per un motivo o per l'altro e che sono diventano invisibili agli occhi degli altri è una metafora per farci capire quanto la diversità possa farci allontanare in primis dalla famiglia vediamo la storia di questa ragazza della protagonista tra l'altro miglior attrice emergente a Venezia mentre Luca Guadagnino ha vinto a Venezia come miglior regista vediamo la famiglia della ragazzina e del personaggio di l'interpretato da Timothee Chalamet come vengano allontanati dalla famiglia proprio perché diversi proprio perché cannibali e in tutto l'arco del film gli unici che ti si avvicinano e gli unici che empatizzano con te sono i tuoi simili ed è questo il grande messaggio profondo d'amore che Guadagnino vuole dirci attraverso questo film che gli ha provocato non poche critiche e che personalmente non è uno dei suoi migliori film nonostante anche in questo caso esplori il senso dell'amore come per esempio in Chiamami col tuo nome anche lì due ragazzi omosessuali che scoprono un ragazzino che scopre l'omosessualità con un ragazzo più grande un film che mi ha fatto impazzire anche lì la diversità sotto il profilo dell'amore viene esplorata in una società che invece ti disgusta ti vede come diverso ed è quello che proviamo noi nei confronti dei due protagonisti almeno finché non ci raccontano la loro storia e in particolare la storia di Lee che per difendersi dal padre che voleva divorarlo anche il papà cannibale è stato costretto ad ucciderlo e senza non pochi ripensamenti a sbranarlo e da riuscire insomma a salvarsi grazie all'aiuto della sorella perché voleva addirittura togliersi la vita gli esclusi sono questo sono i diversi sono coloro che rischiano davvero poi di finire per suicidarsi per privarsi della propria vita perché la società non li accetta e li tratta proprio come veri e propri scarti e invisibili particolare in tal senso anche qui si parla tanto d'amore in particolare nell'ultima scena che è quella che vi vorrei spiegare a un certo punto come anticipavo prima i due protagonisti decidono di vivere una vita normale di fare tutte le cose che fanno le altre persone a un certo punto però si vedono rotta questa quotidianità dall'arrivo di Sally che è il personaggio l'uomo che la ragazzina incontra all'inizio della sua insomma avventura da sola senza più il papà e lui cerca di aggredirla proprio perché è uno che se ne frega di qualsiasi pulsione cioè segue l'istinto e basta e non empatizza con nessuno e i due poi torna anche lì a casa a bere questa scena i due riescono ad ammazzarlo però lì viene ferito a morte la l'inquadratura si sposta su lì e la ragazza che dopo aver ucciso quest'uomo sono sul pavimento lui insanguinato le dice mangiami non ho molta speranza cibati della mia carne subito dopo si vede la casa ripulita e qui è diciamo il massimo la massima dimostrazione d'amore perché è evidente che lei non solo ha mangiato lì non senza insomma pademi d'animo poi alla fine ha deciso di cibarsene ma ha mangiato evidente anche l'altro uomo e ha ripulito la casa perché poi non c'è più traccia di quello che è successo e l'ultimissima scena si vedono loro due nudi su una collina con una fotografia bellissima il film è una fotografia pazzesca e consiglio di vederlo nonostante non sia uno dei migliori film di guadagnino ma è un film molto particolare che può non piacere a tutti e anzi fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti qui sotto l'ultima scena dicevo si vedono loro due nudi sulla collina rimembrando il miglior periodo che avevano passato insieme e quest'unione che c'è stata dopo che lei ha mangiato il corpo di lì l'unico modo per lui di essere per sempre con lei e di averlo dentro di sé fatemi sapere cosa ne pensate ditemi se vi è piaciuto il film se vi è più chiaro questo finale molto particolare e iscrivetevi al nostro canale youtube cerchi azione seguiteci su facebook e instagram dove ogni giorno postiamo news che riguardano il mondo del cinema e delle serie tv al prossimo video che vi è piaciuto